L'uomo è carato malato e tutti quanti non morì ammazzagliosi nella casa. Fra poco arrivo Maggio e la Maronna, mi è venuto un giorno e mi ha detto non è stato il pensiero per me, fosse qui il saluto voi, se voi figli miei non potete assi in mezzo alla via, lo so fatta la pandemia, resta pure io la casa mia, sembra voi che siete i figli miei. Prima io vedi tutto fuori e portavo pure a me sopra il mondo, dovevo guardarlo se mi è nato, mamma non c'è più, sta necessitato e io resto a Calvietto, sembra voi, sembra i figli miei. La mamma non abbandona mai i figli quando stanno bui, la mamma è come lo capitano della nave, prima tra sì e l'ultima che sì. Forza figli miei, facetevi coraggio, unitevi attorno a me e pregate, e quando tutto è passato, e io lo so che ha detto tutto buono, solo tanno. Tutti esempi mi amano molto, e io vi accoglio tutti quanti da queste brazze a me, per vestire forte forte, con tutto l'amore da una mamma. La mamma non abbandona mai i figli miei.